Nel 1995 nasceva una stella, Alanis Morissette, che produceva questo cd che vendette 12 miliardi di copie. Divenne un'icona fra tutti gli adolescenti e non, un album fantastico di rock, fantastico. Dopo 25 anni, fra alti e bassi, esce il suo nuovo album, un capolavoro assoluto, un disco spettacolare, arrangiato in maniera fantastica, con una scaletta dove non c'è nessun brano mediocre, tutti pezzi stupendi. Oltretutto, è uno dei pochissimi casi dove la vocalist mantiene intatta la sua voce, canta come 25 anni fa. Ragazzi, come l'ho ascoltato dalle prime tracce, ho chiamato il nostro fornitore e gli ho preso 20 lp e 30 cd. è un qualcosa di unico, se avesse un minimo di fortuna potrebbe tornare in testa le classifiche, perché se lo merita. È una grandissima musicista, una grandissima cantante, soprattutto ha realizzato uno degli ubei dischi di rock e di canta dorato che abbia mai ascoltato, un capolavoro. Voto 10.